Musica Sentiamo la viva voce di Mr. Bubani Devo fare un esame dell'annata, la valuto così, abbiamo avuto una prima parte dove siamo fatti di forte Poi è una fase centrale dove abbiamo avuto qualche difficoltà e un'ultima parte negli ultimi due mesi che sono stati giocati su un buon livello Se dal punto di vista tecnico, tattico e anche dal punto di vista atletico, direi che nel compresso abbiamo meritato questa vittoria Per qualità, il gioco espresso e anche per essere stati praticamente sempre in testa al campionato Adesso vi preparate per un'ennesima finale È vero, per me è la quinta finale che faccio Le prime quattro sono andate male e spero che questa la prepareremo bene sia dal punto di vista mentale che fisico Tuttavia, noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e prenderemo questa come un'ennesima sfida Senza essere particolarmente carichi dal punto di vista mentale Bene, ringraziamo il Mr. Un saluto ai ragazzi e che dire anche ai genitori che hanno supportato questa splendida squadra Un saluto ai ragazzi e che dire anche ai genitori che hanno supportato questa come un'ennesima sfida